Sarà il lago a forma di cuore al centro della Notte Romantica nei Borghi Più Belli d'Italia, fissata per il 22 giugno. L'evento, organizzato a livello nazionale dall'Associazione Borghi Più Belli d'Italia, sarà curato nel Comune di Scanno, che è uno dei soci fondatori dell'Associazione Proloco, con la compartecipazione del Comune. La giornata comincia alle 10 con l'escursione gratuita a piedi lungo il sentiero del cuore a cura di Maiellando. Alle 11 ci sarà la sfilata delle donne nel tradizionale abito scannese per i suggestivi vicoli del centro storico, mentre a mezzogiorno ci sarà l'apertura della mostra fotografica Notte Romantica 2018 e la presentazione del secondo concorso fotografico. Nel pomeriggio alle 16 ci sarà l'apertura dell'area Kids in piazza San Rocco, alle 16.30 partirà invece da piazza Santa Maria della Valle la visita guidata nel centro storico, mentre alle 17 ci sarà la degustazione di prodotti tipici scannesi. Alle 18 si comincia con la parte musicale, con l'esibizione del cantautore Federico Ginocchi a Fontana San Rocco, mentre alle 22 sarà la volta della band Italia Star, con musica anni 70, 80, 90 e balli di gruppo in piazza Santa Maria della Valle. Infine a mezzanotte ci sarà il bacio di mezzanotte, il lancio dei palloncini rigorosamente biodegradabili, mentre la notte proseguirà con le note del DJ set di Mattia Perugini in piazza Santa Maria della Valle.